Complimenti per la qualificazione, io direi figlia di un secondo tempo di grande spessore. E' un quarto della del primo tempo. Prima mezz'ora abbiamo sofferto ma sapevamo che l'avremmo fatto anche perché avevamo una situazione ambientale particolare. Quindi dovevamo stare attenti a cercare di non prendere gol nell'inizio partita perché se no poi per come gioca il Pescara sarebbe stato un problema. Zeman è una squadra che ha segnato 12 gol in 3-4 partite. È ovvio che devi cercare di farla giocare nello stretto, di non lasciargli spazi, di non lasciare la profondità da attaccare. Perché in queste cose qui Zeman è un maestro, anzi colgo l'occasione per mandargli un saluto e di pronta guarigione. Poi dopo il trentesimo, in quella mezz'ora si sono costruiti le loro certezze, hanno capito che potevamo usare anche qualcosina di più. E siamo andati prima con l'occasione del palo, poi con un altro paio di situazioni anche nel primo tempo dove abbiamo sbagliato la rifinitura e potevano essere situazioni importanti. Dopo abbiamo trovato il vantaggio e poi da lì l'autostima è cresciuta, abbiamo gestito bene anche il finale nonostante c'è da riconoscere che il Pescara ha fatto gli ultimi 10 minuti in 10 uomini. Però dal punto di vista della maturità la squadra è stata brava, poi siamo andati a cercare di trovare il secondo gol. Abbiamo, diciamo, legittimato con la restante ora questa vittoria. L'analisi è completa, io le do l'auricolare solo per una domanda una da studio di Massimo Profeta e poi salutiamo Luca Relli. Massimo, il mister ti ascolta. Sì, buonasera mister, è stato complimenti per la vittoria. Io ho notato una cosa, nel primo tempo, nei primi 30 minuti, Quaini e l'altro centrocampista, naturalmente, il centrale Zammarini erano vicini. Poi c'è stata l'opzione, no? Con Zammarini che si è alzato e è andato a trovare, diciamo, gloria e fortuna, tra virgolette, nei 16 minuti avversari. È stata un'opzione, voglio dire, in questa partita, questa? No, no, avevamo preparato la partita in due modi, alternando questi due moduli, soprattutto in fase difensiva. C'erano dei momenti che andavamo 4-2-3-1 con il nostro trequartista, che era Rocca, a prendere il play. E poi, in alcuni momenti, difendevamo 4-3-3, quindi Zammarini aveva più libertà di poter attaccare gli spazi. Diciamo che abbiamo cercato di non far prendere le misure al Pescara su questa partita, cambiando continuamente il modulo. E poi, nel secondo tempo, passando sistematicamente 4-3-3 quando non avevamo palla e 4-2-3-1 quando l'avevamo. Quindi abbiamo cercato di non dare riferimenti, anche utilizzando tre attaccanti bassi, veloci, nei primi 60 minuti, proprio perché sapevamo che potevamo, con gli attaccanti veloci, creare qualche difficoltà, visto che la difesa del Pescara difende molto alta e anche, magari, nei momenti dell'ultima giocata, un po' in maniera statica e quindi poteva esserci, con giocatori di gamba, la possibilità di attaccare quegli spazi.